Allora, parliamo dell'ultimo argomento della live che è Fringe Poi ecco, ripeto, vi lascio comunque la spazio finale della live appunto per decidere di cosa parlare nella diretta di martedì Allora, la prima serie tv vera e propria della quale vi parlo appunto è Fringe È una serie tv di genere fantascientifico, dispotico e d'azione Composta da 5 stagioni, è andata in onda dal 2008 al 2013 E è creata da J.J. Abrams, Roberto Orci e Alex Kurzman La trama recita come segue Ovviamente niente spoiler Fringe, sì, stupenda, la voglio rivedere Sì, per forza, va bene, anch'io Finisco l'host e mi rivedo Fringe, assolutamente sì E la trama, senza spoiler, ovviamente recita come segue In tutto il mondo si stanno verificando eventi apparentemente inspiegabili Fino a fenomeni soprannaturali che fanno riferimento a quello che la sicurezza nazionale americana ha definito lo schema Quando il volo internazionale 627 è partito da Hamburgo a terra a Boston con tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio morti L'agente dell'FBI Olivia Dunham è chiamata a risolvere il caso Olivia è decisa a chiedere l'aiuto di uno scienziato, il dottor Walter Bishop Che conduceva esperimenti per il governo all'interno di un ramo della scienza chiamata Fringe Che comprende fenomeni paranormali come il controllo della mente, il teletrasporto, la proiezione astrale, l'invisibilità, la mutazione genetica, la resurrezione e via dicendo Finché questo conduceva, il dottor Bishop conduceva questi esperimenti finché in seguito ad un incidente di laboratorio Appunto Walter fu dichiarato mentalmente instabile e rinchiuso in un ospedale psichiatrico Olivia si dirige in Iraq per recuperare Peter Bishop, figlio di Walter e suo unico parente Quindi l'unico in grado di firmare alle carte per far uscire Walter dall'ospedale Peter ha un'intelligenza fuori dal comune, proprio come il padre Ma a differenza di quest'ultimo non ha concluso gli studi e ha deciso di usare le sue capacità per portare a conclusione truffe e inganni Olivia e Peter tornano negli Stati Uniti e recuperano Walter I tre cominciano ad indagare sullo schema e man mano si verrà a capire che non sono eventi casuali ma di veri e propri attacchi di bioterrorismo Precisi e ben studiati Nasce quindi ufficialmente la divisione Fringe Capitanata da Philip Broils, noto agente della sicurezza nazionale già impegnato in indagini sullo schema Il tutto con il vecchio laboratorio di Walter come quartier generale Pian piano si comprenderà che lo schema è solo la punta dell'iceberg Perché conosceremo universi paralleli con i doppi dei nostri eroi Distinguibili solo per piccoli dettagli Vedremo dei muta forma e i cosiddetti osservatori provenienti da un lontano futuro Che ne pensate? Sono riuscito ad incuriosirvi con questa trama Ecco personalmente posso dirvi che questa serie la vidi per la prima volta 6 o 7 anni fa più o meno E poi la rividi un paio d'anni dopo più o meno E quando ecco appunto come vi stavo dicendo in apertura Quando finirò il rewatch di Lost mi rifarò il rewatch ovviamente anche di Fringe Questo perché in realtà ai tempi mi piacque tantissimo Sia la prima visione che il rewatch E poi ecco c'è un piccolo aspetto in realtà è una sottotrama comica Della serie che appunto è Walter Bishop Una sottotrama comica veramente fantastica Cioè da morire dalle risate andrebbe vista solo per le uscite di Walt durante la serie Ma comunque no, battute a parte Una serie fatta veramente veramente bene Molto molto interessante che affronta temi molto interessanti appunto come vi dicevo prima Proprio i viaggi astrali La resurrezione e via dicendo E poi ecco come in realtà mi sono fatto un'idea Che è quella che quando c'è di mezzo J.J. Abrams Si tratta di un prodotto di altissimo livello Molto interessante Di altissimo livello Che è molto complesso soprattutto nel finale Ma che comunque merita di essere visionato Così come Lost appunto Perché Abrams è anche il produttore esecutivo di Lost Anche questa serie Anche serie la promuovo comunque a pieni voti E insomma penso che debba essere visionata Insomma per conoscenza comunque merita Perché anche questa è una pietra miliare Secondo me almeno è una pietra miliare Di moltissime serie televisive Pensieri, opinioni Non so condivisioni di idee Qualcuno ha già visto Lost Se la ricorda bene Se la vuole esprimere un pensiero Se la ricorda un po' meno bene Se la vuole vedere Vediamo un po' Ho visto un commento Stupendo il personaggio di Walter Facine che ridono Vabbè questa serie è strepitosa Incasinatissima come al solito Ma straordinaria Assolutamente sì Ovviamente come dicevo prima Quando c'è la firma Abrams Sappiamo che sarà un casino devastante Però sappiamo anche che sarà una serie Che ci prenderà tantissimo E al 99,9% periodico ci piacerà Grazie a tutti